Amici sportivi, buongiorno! Sono nella città della Burrata, mi trovo ad Andria, dove oggi assisteremo ad un match della squadra di casa, ovvero la Fidelis Andria. Mi trovo all'esterno dello Stadio degli Ulivi, situato all'interno della Villa Comunale di Andria. Qui vediamo la Villa Comunale. E alle mie spalle c'è lo stadio. Lo stadio venne progettato durante la Seconda Guerra Mondiale e fu ultimato nel 1949. La struttura di progettazione fascista ha come ingresso nelle tribune una grande M che stava appunto a identificare Benito Mussolini. Invece il nome Stadio degli Ulivi fu scelto negli anni 90. Ragazzi manca poco, siamo per entrare all'interno della Curva Nord della Fidelis Andria. con bellissimo murale nella curva. Nuostro dov' каткий leader da 48子. Ragazzi, ragazzi sarà da 1,5 millioni fred tagliare Gio Б godi, ragazzi, 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 ragazzi. Ha pape, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, 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 ragazzi. Taglia, ragazzi. Invece il militare dell' another, ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, ragazzi, ragazzi... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Noi, 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 siamo, patria, 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 Samoa. Siamo tutti i nostri fratelli, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti